segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te perché invece chi noi abbiamo sentito le diciamo così le ragioni del senatore licchieri diciamo il quadro più internazionale dato da tona nastro buoni se però uno sfoglia i quotidiani questa mattina a partire dalla stessa repubblica ma anche il riformista quello che capisce è che tutto quello che è successo ieri le assenze della lega gli smarcamenti della lega sulla questione appunto delle armi all'ucraina ma non solo sono legati alla questione delle nomine quindi non c'entrano proprio niente con quello che sta succedendo davvero sul campo senatore lupi è così ma intanto però mi faccia dire ho sentito il sia l'intervento del senatore licchieri sia quello del inviata di repubblica e quindi su questo tema io credo che forse noi dovremmo tutti fare un passo avanti ieri c'è stato un passaggio nella replica alla camera dei deputati del presidente o della presidente meloni importante ed è quello che ho cercato di riprendere poi nel mio intervento di dichiarazione di voto del nostro gruppo noi moderati noi dobbiamo decidere se tutti vogliamo la pace ma no ma se questo volere la pace a parole e vogliamo sul tema della pace della guerra drammatica fare propaganda che è legittima cioè acquistare consenso dire che una l'opposizione la maggioranza o se tornare ad assumersi la responsabilità di far politica quali sono le condizioni della pace chi redetta le condizioni della pace come la costruiamo la pace la pace è lo dico al senatore licchieri ma ieri abbiamo sentito l'intervento del presidente conte del movimento 5 stelle è dire all'ucraina o hai sbagliato hai resistito un anno e mezzo ti hanno invaso arrenditi fai finta di nulla e riconoscere che per costruire una convivenza tra i popoli la carta delle nazioni unite che non è solo forma ma che poi che dobbiamo far diventare sempre in tutti questi anni sostanza se ti invadono un paese se non rispettano le norme se sulla tua pelle perché quello che sta accadendo è che sulla pelle di un popolo l'ucraina noi siamo l'italia ce ne possiamo fregare dobbiamo esportare che ce frega dobbiamo esportare tutti i nostri prodotti in russia ne abbiamo pagato le conseguenze eccetera non si rispettano sulla pelle dell'ucraina ci sono movimenti geopolitici quello che è accaduto l'altro giorno nell'accordo tra cina e russia è indifferente cioè non ci siamo accorti che il tema che si sta giocando è esattamente quello di un accordo politico economico tra pesante di cui la russia si consegna mani e piedi per risolvere i problemi che ha deve esportare più in un anno del 29 per cento della propria della propria energia la dalla russia sono diventati 190 miliardi gli affari e la cina sta disegnando un nuovo disegno mondiale voglio dire qual è il contenuto della pace non non aiutiamo più l'ucraina difendersi il fatto che putin sia stato qualcuno sentito dire nel dibattito parlamentare una cosa mi ha fatto rabbrividire non si doveva fare non si doveva dire che putin è un criminale di guerra bisognava nascondersi sul fatto che i bambini sono stati deportati che i civili sono stati ammazzati ma cioè voglio dire perché così si impedisce la pace io credo che la pace la dobbiamo tutti ha ragione il dialogo continua ma ci sono delle condizioni per cui la pace può e deve accadere che innanzitutto l'assunzione di responsabilità questa posizione ma questa è la concretezza da più o meno quando è iniziato il conflitto ho capito ma si è iniziato il conflitto è drammatico ed è iniziato ma non è perché questo conflitto dura da 13 mesi allora siccome tutti noi abbiamo interesse perché ci sono gli interessi economici perché perché qual è la ragione per cui noi vogliamo la pace molti vogliono la pace perché siamo preoccupati del popolo ucraino siamo preoccupati perché l'economia non va bene ma mi scusi questo è il tema vero senza un fingimento c'è dubbio però quello che vorrei capire siccome queste posizioni sono sostanzialmente appunto queste dall'inizio della guerra no e si sono via via come lei giustamente notava arricchite di qualche episodio no man mano che accadeva allora c'era chi notava le armi agli aerei insomma diciamo però la sostanza non cambia l'unica cosa che forse è cambiata è l'atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra perché se all'inizio sembravano abbastanza propensi a un aiuto nei confronti dell'ucraina adesso non si può negare che la maggior parte degli italiani sembrino più resti di prima ad aiutare l'ucraina il che può dispiacere sicuramente no ma questa è una cosa se posso interromperla mi scusi collegamento ma io credo che l'osservazione che lei ha fatto sia assolutamente fondamentale e dice ancora di più la responsabilità di chi fa politica di chi governa dei governi spiegare le ragioni per cui si è con l'ucraina si sta dalla parte dell'occidente si è con la nato si è per il rispetto delle regole internazionali che non è formale ci sono paesi che hanno dato compreso l'italia forse ce lo siano dimenticati la propria vita per costruire una identità nazionale un rispetto delle istituzioni una cosa che si chiama democrazia allora io credo che il segnale che mi arriva dalle dai sondaggi lo dico da politico che ha questa responsabilità del dell'opinione pubblica che non comprende più quelle ragioni mi dia ancora più responsabilità nello spiegare perché oggi devo avere quella posizione che cosa sto facendo non rincorrere l'opinione pubblica benissimo allora la politica che rincorre l'opinione pubblica ha distrutto le istituzioni non c'è dubbio se si fermi qui un secondo lei ha raggiunto il punto come dire che mi è interessato